Il tema di quest'anno di università è onoris causa, perché abbiamo pensato che quest'anno potesse essere utile individuare alcune cause che meritassero l'onore di essere un pezzo del programma culturale della città e l'Ateneo su indicazione, su richiesta della Facoltà di Scienze della Formazione ha individuato Mogol come un ottimo rappresentante di questi delle nuove modi di fare comunicazione, non soltanto lavorando sul tema musicale, ma per il fatto che lui sia fondatore e direttore di una scuola che alleva talenti. La talento e merito non possono essere gli ingredienti fondamentali della missione universitaria. Allora Mogol, anche per il lavoro che lui ha fatto in questi anni con i giovani, allevando le loro qualità e mettendole poi a disposizione delle loro passioni e capacità, ci è sembrato un testimonial importante di questa stagione. L'altro protagonista invece sarà Tornatore la prossima settimana. Esatto, anche Tornatore conferiremo una laurea in onoris causa, promossa questa dalla Facoltà di Lettere e anche la settimana prossima la modalità sarà la stessa, gli chiederemo di raccontarsi e di raccontare in che modo anche le loro storie sono storie di successo che possono servire a infondere speranza, maggiore sicurezza ai giovani che sono veramente il nostro futuro non in senso retorico, o riusciamo davvero a ricostruire in loro il sogno del futuro altrimenti rischiamo di non uscire da questa crisi in cui siamo impantanati.